bravo, bravi ragazzi, bravi guardi i colossi facci dei po' i piedi anche quando non si gioca ecco, è terminato l'incontro andate a salutare il pubblico pure è terminato l'incontro la Virtus Casseffrentano batte in trasferta lo sport team Ortona per 6 a 3 tripletta del nostro bomber a centrocampo diamo gli auguri te di Mata e tripletta di Gianluca Malbone con questa gara a centrocampo ragazzi andate a salutare il pubblico Federico qua Michele, Gabriele andate a ringraziare ecco i nostri ragazzi al centro la ola l'hanno fatto ecco i nostri ragazzi che vengono applauditi dal pubblico presente ecco i nostri ragazzi fanno dentro nei spogliatoi ecco e